Ciao, sono Luca e oggi vi farò vedere nove porti. Guardate, ammirate. Guardate che sto parlando. Levo il brume. George fa giochi di vestigio. Lui sta sfidando Orden per poter diventare il mio nuovo fantastico amico. Avete inizio a tutti e a fare il caro per diventare il mio amico. È gioco di vestigio, è un gioco di vestigio. Ciao.